Oggi è una vittoria per noi, contro Ravenna. Quali sono le vostre idee? È stato buono ottenere la nostra prima vittoria 3-0. Abbiamo giocato molti amici, quindi è stato divertente combattere con il team. Abbiamo giocato il primo amici contro Lube in una settimana, quindi siamo molto felici per giocare queste amici. È stato un buon amici, abbiamo giocato e abbiamo giocato fino all'inizio. Cosa ti piace di questo team o il vostro capitano? Fox è un buon amici. Tutti i ragazzi sono fantastici, mi piace la città e il team. Tutto è stato davvero bello. Siamo molto piccoli, ma l'abbiamo davvero molto forte e vogliamo vincere davvero molto bene. Quindi credo che abbiamo un buon anno.